Ciao Consolini, breve messaggio prima di iniziare In questo momento il nuovo canale TPOC Place è a 83.000 iscritti E alle 14 saranno passate 24 ore Se prima delle 14 riusciamo ad arrivare a 100.000 iscritti Avremo il primo atto di aver fatto 100.000 iscritti in un canale in meno di 24 ore Che sarebbe una roba incredibile Vi mettiamo il link in descrizione, lo mettiamo anche nelle schede consigliate su in alto Quindi andate ad iscrivervi, dateci una mano e vediamo se riusciamo a fare questo record Quest'oggi proviamo un po' di cose particolari nella parco giochi Come ad esempio lanciarsi dalla massima altezza del gioco E sì, siamo già alla massima altezza del gioco In realtà è questa, però vabbè, dobbiamo stare pur sempre da qualche parte Alla massima altezza del gioco E lanciarci nel trampolino della piscina E vabbè E sopravvivere Dopodiché la seconda cosa si farà con la balestra e sarà ancora più tricky Ma partiamo per gradi, quindi partiamo da questo Parti Stef Prima di tutto dobbiamo sfruttare la minimappa per capire quando realmente siamo nel punto giusto Perché è davvero difficile rendersene conto Mi sembrano Si può fare che facevamo su GTA Tipo di centrare le piscine dall'alto con l'elicottero Però andava sempre male Malissimo, quindi credo che succeda la stessa cosa Perché c'è un problema? Non neanche me lo renderizza Esatto, tu lo vedi? Cioè se zoomi con la balestra si lo vedi Quindi capisci dove sta? Grazie per la dritta Ovviamente ci devo pensare io Lì, lo vedi? Ok Allora, io penso di provare Vado? Vai Cioè mi sembra in un buon punto Ok L'ho preso Però sono morto Mi sa che non ci si può sopravvivere sopra Lo sai? Va bene L'ho preso anch'io Ho proprio sentito il tonk del trampolino Quindi sono sicurissima E no, non ci si può sopravvivere Però Noi possiamo fare le persone furbe Allora Guardate questa tattica Incredibile che si è inventato Steph Se noi andiamo qua Ti sto guardando Questa è buona Hai provato a colpirmi? No Hai provato a colpirmi Steph? No Tanto non ci possiamo neanche prendere Ah è vero Quindi inutile che insisti Steph Vai Allora Cosa vuoi fare? Torna tutto su Allora aspetta che faccio il respawn Che se non è troppo lento qui Peccato che il respawn non si può mettere in un tasto Così tu lo spammi Capito? No Io lo vorrei spammare Ok va bene Ah ma che sei di Fere? Se la spacco No Io alla scorsa Cosa stai dicendo Steph? Niente Ok Ci sei? Posso di essermi buttata da qui Che mi piaceva sta posizione Ok Credo non mi ricordo dove mi sono lanciata alla fine Scusa Dai Fere Dai Fere Ok Vediamo se ce la fa Vabbè è facile Sono belli grandi Steph E ho capito Ma punta soltanto a una delle quattro frecce Che è la stessa grandezza Che avrebbe il trampolino ad esempio Ok Un po' di inventiva qua E vabbè ma io ho puntato Guarda che io sono Guarda ho preso la freccia perfetta Questa roba blu Ma anch'io sono atterrata su questa freccia Sta manco a pensarci Steph Non ha senso Aveva senso il trampolino Pensavo sarebbe stato più entusiasmante E soprattutto anche più difficile Sto ricaricando La cosa che abbiamo fatto con la palestra non è questa raga Tranquilli Yey Che schifo Con le palestre dobbiamo cercare di colpirci dal più lontano possibile Quindi staremo entrambi fermi Ok E ci spareremo e basta Con l'obiettivo di ammazzarci con il record di distanza maggiore Ok Ok e dove ci mettiamo? Allora Uno secondo me può stare Dove eravamo E l'altro avanza Per l'infinito e oltre Che dici? Boh Non lo so Non sono sicura Ma avanziamo sempre in piatto Perché se poi ci sono colline e tutto Rischiamo di non fare la distanza ottimale Però non è che poi lì c'è il mare Steph Quindi non puoi andare troppo lontano Vedi all'altra parte Aspetta Ah beh Sì Capito? Sì Hai ragione Tu sei molto intelligente Lo so A differenza tua Allora Ho rischiato di far collare tutto Sapere Dove salire Quindi Noi dobbiamo andare di qua Io però faccio così Faccio cosà E faccio così Wii A dopo Fere Dove sei andato? E mi sto facendo la mia stradina Ho usato il ghiaccio E quindi mi sto allontanando un sacco da te Ok Partiamo per gradi no? Sì Perché altrimenti ci siamo all'infinito Ok quindi Io parto da qua Fere è la Via Pensavo fossi morta Ti sei spostato Io ti sto facendo solo headshot Steph ma ti sei spostato 143 Mi è venuto naturale Ti avrei ucciso prima io Perché tu hai fatto così Hai detto che tuo mamma sta fermo Io sono stata ferma Tu hai barato Ok Quindi kill me Ho vinto io Ma bene Quanti metri erano? 100 Pfff Pocca roba Fere Anche se poi Steph Oltre un certo tanto Poi non ci renderizza più Credo Ci possiamo colpire anche senza vederci Ok È lì che stiamo andando a parare Ok È proprio lì che andiamo a parare Ok Allora Mi stai svelando ad esempio Devo capire la distanza Penso che qua vada bene Perché vedo Fere che È super in difficoltà Eh Ok 308 metri Lo capite Arriva bella lontana Sì 300 metri sono molto tanti Però ci vediamo ancora Fere Lo so Quindi siamo ancora a troppo poco Adesso infatti continuo ad andare in avanti Beh perché comunque giù ma un botto sta palestra Ma se tu realmente andassi Non so passare Dall'altra parte Che parte? Dalla parte opposta in lungo Distruggi quelle due cose E vai in lungo Ci allontaniamo al doppio della velocità Vediamo Hai visto Einstein eh? Vabbè fino a un certo punto Perché poi arrivo al limite della mappa quindi Vabbè Ci deve arrivare Comunque così sarebbe Itarsi da una parte all'altra della mappa Vorresti Allora direi di fermarci così Perché abbiamo fatto un altro bel progresso di distanza Ti vedo ancora? Pure io Minuscola Non mi hai preso? Sto ricaricando? Quanto lontani? Già Più in alto credo Quanto sei Stef? Dimmi 505 metri Stavo colpendo così Vabbè Continua Allora adesso credo che saremo a 700 metri Ovviamente l'obiettivo massimo è 1000 di metri Anche se il record del mondo con kill di balestra credo sia sui 1300 Però sinceramente non penso che punteremo a quello Vabbè vediamo quanto riusciamo a fare Assolutamente sì 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 perché dobbiamo costantemente imparare il nuovo colpo Comunque ti vedo mi renderizza Sei una specie di cosettina A che punto sono con te? Troppo basso Cavolo Il mio? Bassissimo Stef Sei andato a metà Temo che quella rampa che hai lasciato tra me e te Possa bloccare lì No non ho fatto la rampa Stef Allora renderizza qualcosa che non c'è Adesso dove stanno andando i miei colpi? Vicini Troppo alti? Ok I miei? Mi hai perso troppo alto ma devo rivedere Sei sopra la mia testa? Tu sei troppissimo in alto Ora mi hai sfiorato quindi era un problema di lato Eh ma io ti vedo dritto così Prova così Sfioratissimo Eh un po' più centrale L'altezza è perfetta eh Ok Sfiorato troppo alla mia destra Sì ma io ti vedo dritto è quella la cosa difficile Anche tu mi hai sfiorato però eri troppo alla mia destra Difficilissima sta roba Niente Mi stai sfiorando a fare Devo fare movimenti minimi Tipo così Sì 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 Perché a queste distanze Mi hai Qua mi hai toccato i capelli Non so perché non mi hai fatto danno Anche adesso sei totalmente attaccata Devi fare cambiamenti minimali Leggermente più in basso Leggermente Dai non ti sto prendendo Mi sfiori Io adesso mi sono spostata sulla destra Dove colpisce Stef Va bene ti sto prendendo in pieno Mi prende praticamente nel petto E vedo la balestra La freccia della balestra Che mi passa attraverso E non mi fa danno Guarda anche ora Mi hai preso il braccio Quindi evidentemente c'è un limite massimo In cui può colpire Ma mi ha detto che hanno fatto il record da mille Io ho visto più di mille Ma non è che sono cose che hanno fixato Stef Può essere cara Non mi piglia Ok Non mi piglia Niente Niente Ma dai Avremmo potuto fare una sniperata lunghissima con la balestra Ma perché l'hanno tolta? Non lo so Va bene in effetti forse è un po' inutile Perché comunque a quella distanza Non penso che a mille metri Ti metti a fare una cecchinata Mentre stai giocando un game normale Ma nella porco giochi Lasciamo le stesse cose sono divertenti Lasciami queste impostazioni qua E nel game normale però me la togli Boh Non lo so Non capisco bene la scelta Però Stef È andata male Sono depressissimo Poteva essere bello Siamo partiti bene Che ci prendevamo proprio Molto fieri di noi stessi Stef ti butto giù Perché? Perché la devi smettere Perché mi Vedo correre nel cielo Niente Vai Hai preso il legno Questo mi prende Ferma allora Ah scusa Davvero che non ti fa vedere i metri Finché non fai la kill Vai 476 Meno che avevamo fatto prima Per di più Eh vabbè Pazienza Che noiosi quelli della epic Almeno nella porco giochi Potevano lasciarlo Perché era super mega divertente Esatto In ogni caso Tentativo fallito Il Cosa? Il trampolino Ci fa prendere il fall damage E non ci Resetta land Secondo me dovrebbe Perché è una meccanica carina Che potrebbe permetterti Di salvarti Certe volte Sarebbe carino Ci hanno annullato la cosa Di fare il record Incredibile di danni Quindi Epic Games Oggi non ci sei piaciuta Voto 1 Non d'accordo Ci fermiamo così Qua sotto come sempre Come in altri video Iscrivetevi al canale Campanellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao Ciao